Il Luigi ha detto che stasera ci mette tutti in difficoltà, vediamo un po' cosa da parlare. Nella mia ricerca ho visto che anche tu hai scritto, i carruggi ti raccontano, parlano di te, di Dino Durante, i carruggi ti raccontano. No, i carruggi ti raccontano, io non c'entro, io l'ho solo scritto, io invece ho scritto i raccanti della memoria dove parlano di me e naturalmente parlando di me parlano di tutti, come se vedeva, come giugano, come fanno, eccetera, eccetera. Ho visto qualche frase, qualche... Ecco, dai, vieni. Il carruggi ti raccontano. La lunga ho messo in questo libro, i proverbi a reversa, i modi di dire a reversa, le frasi storiche a reversa. E io mi ho messo anche lì. Mi ho messo lì, mi ho messo lì. Super, ti ho dato la parola, la riflessa, e poi ci troverò in seconda cosa. Allora? La riflessa, la riflessa. Poi, proviamo. Meremo, bobo. Ah, chi ti dice da zunze, qui? Da zunze, qui, Regine? Non, le parole... Non, sono parole... Parole, 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 sì. Si, si, ma da zunze, qui, parole, di Dino. Non è più vecchio, vecchio. Non è vecchio, vecchio. No, è vecchio, le frasi, ma... Non è vecchio, le frasi, ma... Però non dici ancora. Le frasi, ma le abbiamo già detto, è una parola che indica uno stato di qualcosa, no? Di piatti, di gotti. Quindi, il classico odore delle frasi, è quello di gotti. Perché non ti lavarti magari da nessuno a farli, però... Quando, specialmente in questo ristorante, in questo ristorante, in questo ristorante, non viene da molto a rilasciare, no? Perché ti tassetti e ti usci. Poi... 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 Poi c'è appunto... Poi c'è dei problemi interessanti. Fa una figura di cioccolate. La cioccolate. Ah, sì. Sì, è una brutta figura. L'etimo non mori... L'ho scritto anche perché, eh? No, la scheda non lo sa com'è. Ah, no, appunto. Non mi ricordavo che hai messo. Che senso ha? C'è la cioccolate, la baruta... Da... Da... Da baruta? C'è... C'è una cosa sbagliata, anche. Cioè... La figura di cioccolate... Sì, ti fai qualcosa di bene. Ma... 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 Ma c'è... La peggioffola da... Da pasticcina... Ma c'è... Ma c'è... Ma c'è... L'origine... L'origine c'è. Però non la ricordo. Una ricetta. Avanti. Poi io che mi nascevo... Officieur. 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 Cagnolino molto lunga. Officieur sono... Officieur è... Diciamo che il termine... Officieur... Officiale, no? Officieur. Eh... Però chiaprar... Ma è dimmo, Marisa? Officieur. Officieur. Libehti. O Libehti. Tra l'altro... Libehti o Libehti... Gaudigian anche in allevante. Tipo... Stesso in allevante... A Ciave... Gaudigian Libehti. Sono... Quei... Quei cordoni... Cioè... Praticamente è un cordone lungo... Di... Di... Di cera... Di cannelline. Lo sottili sottili. Arrotolare. Che... Che danno... Una foggia... Di un panino... Addirittura c'era anche... La crezza. La forme. Che dava la forma agli animali... La pecorella... Quelle cose lì... Che si usavano... Un giorno di morti... Per mettere... Davanti... Alle... Alle immagini... Dei defunti... Della... Della famiglia. Allora si facevano... Officieur. Si fava ialtarini... Officieur. Si fava ialtarini... Officieur. Si fava ialtarini... Ma poi l'altro nome... Libehti. 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 E quindi questi... Addirittura poi... Se si rompevano le candeline... Si fava diventa... Cioè... Si... Erano spezzoni... Si facevano tante candeline poi... Che bastava mettere un po' di cera lì... E rimaneva in piedi... E... E si è andata avanti... Finché non li hanno proibiti. Perché? Ebbene... Li hanno proibiti... Perché evidentemente... Qualcuno ha fatto il fuoco a casa... Ebbene... Un incendio... Qualche... L'hanno proibiti... L'hanno proibiti... Infatti non ne hanno più fatto... Anche le cera lì... Non l'hanno più fatte... Allora... Ce n'è una chiave adesso... Eh si... La chiave ti vedi anche che diciamo... Le spalle... Allora... Grifo cruce... Grifo cruce... Allora... Grifo cruce... Perché si dice Grifo cruce? Perché sulla... Sulla moneta ci sarà saldo... Allora... C'è il grifo che... Che alzana... Allora... Il grifo... Non è il simbolo della Genova... Anche se lo è... Sì... Ma... Per quello che riguarda... La moneta... È il simbolo di Genova... Il grifone... E la croce... È 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 la croce... Lo stema di Genova... La bandiera di Genova... È la croce... È una croce rossa... In campo bianco... Che sarebbe poi... La croce dei crociati... Che abbiamo detto anche quella... Che poi... Che l'ha... No... Quella è nata... È la bandiera di Genova... La bandiera... Di Genova... Guardate... Che hanno assunto poi... La croce di Sant'Andrea... Che hanno assunto la croce di Sant'Andrea... Ma... La bandiera di Genova... Che l'hiamo venduta... Cioè... Non abbiamo venduto la bandiera... Gli abbiamo concesso... L'uso... In un certo momento... Il diritto... Alle navi inglesi... Di fissare... Bandiera... Bianca... Con croce rossa... No... Perché? Perché... I zeneici... In termini... Marinari... Erano... Tospi... Tospi... E... I... Barbareschi... O i saraceni... L'hanno sempre pigente... I zeneici... No... Invece... Se ne approfittava... Quando vedeva... Qualche... Nave... Le navi... E allora... In inglese... Si com'è più gioco... Che l'urso... Se ne deve la vostra bandiera... Quando insomma la bandiera... Poi la sede... Scappa... E... Cusci... Parga... Ha funzionato... E... Zena... Naturalmente... Ha incamerato... Ha incamerato... Ho scinto... Un'ideica... A tascia... Che non ha già pagato... Perché poi... L'inglese... Non ha pagato più niente... La bandiera dell'inglese... Che fai a caso... C'è la croce... E poi c'è anche... La croce di Sant'Andrea... Ma... La bandiera dell'inglese... Quella... Quella da Gran Bretagna... Quella lì... Sant'Andrea... E San Patricio... Perché la croce di Sant'Andrea... Perché si dice... Croce di Sant'Andrea... Come è la croce di Sant'Andrea? È una X... Ok... Perché si dice... Croce di Sant'Andrea... Quella che troviamo... Il passaggio di verde... Esatto... Si... Si... C'è una pelle... Dopo qua... L'ha messo... Un croce a Cusci... Perché è stato croce fisso così... Su... Non so se... Inera... Muffetto Cusci... Oppure l'hanno creata... Date... E' stato... Mani... Mani... Piedi così... C'è la pelle... Andrea... E poi... L'ha venuta... Dopo... L'ha venuta... Lui cito... Vanno avanti... Poi... Questa è la insidiosa... Ese... In te sbige... In te? In te sbige... Sbige... Mai sentire... Cioè... Ese è il verde... Ese è rovinato... Allora... Ese è un verde... Vi dico anche perché si dice... Ese è un verde... E... Un verde cosa vuoi dire? Verde staccano... Perché... Quando si amici... Che non sono ci... La scabella... Perché... Una volta... La scabella... La scabella... No... Anche io... Questa è una... Non era di navite... Una candeia... Una candeia... Una vuote... Non so per quale motivo... Ma era così... La parte inferiore... Qua... Era colorata di verde... Ah si... Quindi... Quando la candeia... L'arrivava qui... Non viene acido... Non viene acido... Quindi... Da... Ese è un verde... A candeia... E se è un verde... E... Non viene acido... Per estensione... Per senso figurato... E invece... Vige... Ese è inteso... Vige... Mai senti... Ma come? Questo invece è poco facile... Ese è in trappa... In trappa... In trappa... Perfetto... Il forno... Il modello... Devo dire... Cosa... Io lo so, quello è ben vestito, ma camminha approvata, è tutta un trappa. Invece, una domanda, una domanda, non è che ti serve, questo devo sapere, non è capace che la cioccolata. E lui dice, ti ha mai sentito di ovulenti recati? Ti ha recati, ti ha mai sentito di ovulenti recati? La quale vuole all'ospia. Ah, all'ospia. Allora, se arriva bene. Perché all'ospia, cioè dare recato cosa vuoi dire? Quando si ha dato recato alla cosa? Non si è messo a posto, si è riparato un guasto, si è messo a seme, si è arruttando. Quindi, gli ha dato recato, gli ha dato recato, lo mettano a posto. Giusto? Esce guarito, ti ha dato recato. Io non l'ho mai sentito, però è bella. Si, ci ha fatto recato. Si. Però, dare recato ha acquistato un senso figurato per dire che, per esempio, se io e la Marisa adesso ci appartassimo. mi fa l'esempio e poi io esco e devo dirmi, guardate un recato. Hai capito? Mi capito, figurato. Si, sono figurato. Dare recato. Dare recato vuol dire sistemarla anche. Giusto. Ma quella parola di prima non la trovi sul vocabolario Marisa. E qua c'è dall'italienzo, su queste devi partire con l'italienzo. Ce n'è ancora due. Dai, dimmi, spara. Dobbiamo ripristinare. Un esu. Un esu è il tappo della barca. Senti, quando Dante è entrata all'inferno, la prima cosa con l'italienzo, lui mi fa che questi giorni di scaldamento è un po' troppo alto. Poi l'ha portato la barchetta del Caronte e va a montare. Uga la lingua come un Stafidu Goya. E va bene, l'italienzo. Stafidu Goya è la frusta. E poi può essere anche la mannaia. Questa è la fine. Oggi. Oggi. L'orlo. L'orlo. Se fai affiugato in te l'orlo, quando è l'orlo. All'interno è l'orlo. Come scriviamo oggi? Oggi. Qua è la cruce di Santa Andrea. Sì. Bene. Buono? Sì, mamma. Ho scoperto che è buono. Buono anch'io. Non si dice nessuna lingua. Buono. Però mi l'ho sempre detto pensando di usare un termine argentino. Ma perché? Un termine spagnolo è buono. 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 Ma lo ho sempre creduto che fosse un termine vero. Un termine giusto. Perché quando io cominciò a fare ricerche sui soprannomi delle famiglie di Praga e anche i bueni. Perché i bueni? Perché il capostipite era andato in Argentina e quando la ritornò poi, no? Quando invece dice, va bene, dice, buenos. Per conto me, se ti vale, buenos, non posso dirne così. E niente, buenos invece non esiste. C'è un amico che ha Tenerife, mi dice, buenos, mi dice, che buenos, ma non si, no, buona, buona, buona no, buonas noches, ma buenos, no, è buono, è un maschile, bene. Quello lì non si chiama bene, si chiama bueni. Bueni. Va bene. C'è un amico che ha Tenerife? No, 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 è un musicista, quello dell'Hungaro, tra l'altro, è un musicista. I due giorni facciamo un ferro, i due giorni si senta. Io dell'Hungaro, quella di Tenerife, quella di Tenerife, quella di Tenerife. Giovanni oltre, per questo è una persona facile, Tenerife, Tenerife. E' venga, in Tenerife, in Tenerife. Tenerife, Tenerife. Tenerife. Tregio. 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 Qua è difficile per il momento in questo. Ma, è proprio no, ma. È senso figurato, piadallo. Ho mangio come il troggio. Oppure ho mangio a un tuttruggio, perché non è stata da Roma un tuttruggio. I traggi del saperlo? I traggi del saperlo? La cosa? Bacelea Bacelea o Bacelea anche con la B Bacelea E cosa vuol dire? Faccio il disegno Dove metti piatti? Scola piatti ma non ce li mettevi a scolare ti asciugavi e poi ti mettevi ma non solo i piatti ma anche i ganchi che mettevi a casa a casa poi sotto che ha la cantia che ha mesia normalmente che ha? Bacelea e mesia Mesia è la? La maglia E cosa le ha? Un mobile con un ribaltabile per cui quando lo toglievi diventava la tua l'anno passata e gli accessori erano il cannello e il cattello basso per fare il taggiano che voleva quello lì poi sotto un sbortello anzi due sbortelli l'ultima è Denada 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 è sarebbe la regalia natalizia che i vecchi i vecchi negozianti i buteghe davan a ai casane perché solo ai casane le donne perché lui non aveva a casa quando mai l'uomo aveva e a casa aveva la donna quindi il cliente era la cliente sempre e quindi a casa hazzana che è una parola che arriva dall'arabo hazzana che vuol dire magazzino tra l'altro non lo è manco dito più c'era scritta del medievale allora c'è anche una normativa che ha scortato dal Banco di San Giorgio che ha detto che ai suoi dipendenti ha detto che a Natale doveva lasciare solo ma non in soldi ma in materiale cioè in deni ma perché no richiama le palanche no? no 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 perché poteva essere che te dava un corrispettivo di tanto per poi tecata un pacchetto di no più o meno richiama quello non è che ci sia eh una letteratura molto fiorente che basta altra domanda bravo grazie allora ho io una cara dubbia giatta o giatta? esatta allora giatta è la fondina giatta è la fondina giatta è in magnaccia punto e basta però per estensione giatta è anche il mio che si comporta con brega con roba un po' come qua non parlo ma di là non l'altro ma di là siamo lì ma di là è proprio tagliaborse che poi divento anche Ulisse per esempio Ulisse è stato definito da quello che l'ha scritto Lilia in senese l'Ulissea in senese un man di là quello di là di Ulisse un fregaiolo cioè uno che era salunda non è proprio un sinonimo di giatta però non sono due persone per bene questi due e giatta giatta sostantivo magnaccia giatta è anche un verbo all'infinito che si scrive uguale giatta perché si scrive sempre uguale giatta si scrive così perché facciamo finta che ci sia esista la parola italiana usarei va giattaio giattaio allora va via giatta invece giatta è giatta re il verbo l'infinito va via o re tutti e due scrivano sempre la stessa maionea giatta lo dì fregare come anche grattare 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 vuol dire fregare formaggio da grattare in ciò sul banco va bene che buono fregare vabbè 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 che fai aggiunto la grattena 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 punto di t eh grattena è per grattare un formaggio siamo passati da un magnaccio al formaggio poi bansigo bansigo è la altalena 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 bansigarse vuol dire minarsi dondolarsi non chiamavano bansigo anche quelle bilancie grandi no non è bansigo bansa bilancia ma perché la bilancia fa così no? se tu hai una bilancia di quelle a due pesi che leva arriva nella melanda che leva cosa fa? ma se bansiga a Milano bansa perché? ma se bansiga come si scrive bansiga? allora non c'è il corrispettivo italiano mi la scrivi al cuscino con la cediglia eh io l'ho messa così la scriverei così qualche vocabulaio la porta qua S ma si è femminile ma si ho scritto io perché? perché hai messo griglia eh perché hai messo a cediglia perché tutto deriva dalla parola bilancia bilancia che in senese come si dice? bansa 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 ma non posso scriverla qua cediglia perché? non c'è la i perché dopo c'è una vocale dura quindi non posso scriverla ma sono costretto a scriverla cuscì ma qua c'è la c ma bansidu che deriva dalla bilancia è dei mai dopo e allora per mille c'è giusto scrittura uscì è come franza e francese uguale stesso caso mi ha capito alla lettera v vivagna 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 cos'è la vivagna? è assorgente assorgente e assorgente anche di tutti e la vivagna A proposito delle parole, una serie di parole che rispecchiano un certo modo di scrivere e di modificare la parola italiana passando la zenese, per esempio dalla L si passa alla R, oppure in altri casi dove si passa da una lettera a un'altra, ma sempre, costantemente, pedissequamente. Per esempio, se mi dico calmo, alto, delfino, albero, falco, alba, fulmine, colmo, golfo, volpe, almeno, calmo, il zenese? Carmo, la L diventa R, carmo, tanto per dire albaro, come si dice in zenese? Arba, 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 nu alba, arba, le conseguenze, alba, ma si dice? Arba, se si dice arba, si dice anche arba, anche palmaro, 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 fulmine, fulmine, non ci piove, si piove, gulfo, gulfo, falco, fargo, delfi, draffi, draffi, bravo, è una specie di inventate di questo, draffi, la nesa è draffi, un musciane, ule, un filetto, un filetto, del filetto, del delfino è secato, un musciane, ule, filetto, un filetto, du, draffi, draffi, almeno, multa, multa, altare, palpo, polpo, saldare, saldare, balbettare, barbottare, polmone, curmo, salsa, palma, salpare, salpare, scalmo, scalmo, un escarmo, c'è una regola oppure sono tutte così? La L diventa arba, la L normalmente in molte parole viene modificata, cambia il daste e diventa una R, balcone, 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 Poi, delle volte, una F diventa SH, tipo Fiamma, Fiume, Fianco, Fina, Vago Fina, Asena, Cina, come si scrive? Cina, Cina, Asena, di Fina è italianizzato. Viato, Fiori, Shua, Fiori, Shue, Si, Sebbene, Siccome, Significare, Significare, anche se la usiamo un po'. Sillaba? Sillaba. Silenzio o la silenzio? Simile o la scimile? Patissimile? Uno che ci patisce. Simpatia? Simpatia? Sindaco? Sindico. Sinistro? Sinistro. Poi, quelle parole che, al plurale, molti tendono a recitarle nel modo sbagliato. Tipo, se io, avete presente, un gozzo? Sì, una barca. Gozzo. In italiano, il plurale cosa fa? Gozzo. In zanese, come l'è? Gusso. E' un plurale, come l'è? Gusci. 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 Come? Rosso. Rosso, come è? Rusci. Rusci. Eh? Sì. Solo che, Rusci ci viene naturale. Rusci, magari, è una parola che viene trattata poco. Tu, quante volte, hai pronunciato gozzi al plurale in zanese. Ma? No, non sopevo. Tossire? Tussci. 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 Passi? 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 Osci. 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 Difatti si dice, ma vanno a pe osci. Vanno a pe osci? Non vanno a pe osci. Vanno a pe osci? Vanno a pe osci. Perché? Perché si dice, tussì. Perché una volta si andava anche a raccogliere ossa, che poi si vendevano tra sé o al corrispettivo, davano qualcosa e le osse le usavano per fare il sapone e quindi è sediva, vai a raccogliere ossa, il tasso animale, la tassa, chi è che aspetta la tascia con prenesia, chi è che aspetta la tascia, chi aspetta la tascia con prenesia? un tascia, un tascia, quando lei non muo, basi, basi, mosi, mexi, assi, 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 possa tu, possi tu esse, possi tu esse, possi tu esse o possi tu esse, che recitandola tutta, non so se nemmo mai parlò, posi tes allughetto, nemmo già parlò, allughetto vuol dire allucchettato, allucchettato vuol dire ammanettato, in poche parole, messo in prigione è un augurio, mica tanto, anche se a volte si usa addirittura come augurio, come in Romagna che dice, advenne in cancro, no? Che venisse in cancro, lo dico a uno che magari fa una cosa straordinaria, e anche che possi tu esse lughetto, che poi possi tesse, normalmente è più facile dirlo, al contrario, per fare un complimento, che non per augurare il male. E così, anche quello lì, che ti vengono in cancro. Che ti vengono in cancro. Calci. 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 Che sei un po' il buon rossio, eh? Comunque, aspetta, poi, prendendo spunto da questo concetto, che a volte si dice una cosa per dire il contrario, per esprimere il contrario, come questo caso qui, e mai senti o di, o là da farci le, che un con noi del niente. Mai senti o? Non so. Oppure, o va a cercare, o va a cercare su un bar di miele. Partiamo da lui. O va a cercare su un bar di miele. Anche come un russo kartà. O va a cercare su un bar di miele. Allora, o va a cercare su un bar di miele, i miei vanno a cercare su un bar, è vero che va a cercare su un bar, per curare, no? Quello invece, o va a cercare su un bar di miele, e si fa auto-lese a mele, ma perché si dice così? È sbagliato, no? Ma va a cercare su un bar di miele. Un bar di miele non va a cercare su un bar di miele, un bar di miele va a cercare su un bar di miele. E al contrario, cioè, è un modo di dire, perché dicendo advenne un canker, addirittura, la cosa viene messa su un piano di assoluta, diciamo, totalità, no? Non si vuol dire, che è un bar di miele. c'è una frenesia attorno alla gente, il figlio e la figlia, eccetera eccetera e allora la strategia, però da parte degli altri, non da parte di quello come è, però si vuole appunto puntualizzare, quello è le, quello è frenetico, però per sottolineare ancora di più il fatto, cioè che non lo ha da fare, non lo ha da fare, non lo ha da fare, non lo vive, non lo ha da fare tanto, circa il comune del notte, voglio dire che non lo ha da fare, a proposito del comune del notte, a un certo momento ho baci già 90 anni, ora mi stappetì al zampino, tutti in giro, e il tirapiedi è simpatico, il tirapiedi, il tirapiedi era l'aiutante del boia, come chi ha l'osampino, chi ha l'osampino di lui, e lui è lì o baci già, un certo momento, che tutta la famiglia, figli, ginei, ma io ci atteguiamo un geno, ci sono qui, sono qui, sono qui, ma anche i figli, non siamo qui papà, tranquilli, siamo qui, e i neti, i piccini, i grandi, mi avevano anche i vegini, tutti, 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 che sei tutti, beh, e allora perché è l'osampino a 6 giga? E' così? 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 Adesso voglio dire una cosa ai nostri amici che magari poi ci vedranno registrati, eccetera, quando devo pensare, ma da sempre, l'ho sempre fatto con ci, ma io parlo, si ho molto zainese, ma io parlo italiano anche, no? C'è italiano? Allora, io vi faccio una domanda, e la domanda io non voglio neanche, non vi manca la risposta, ma perché la risposta è già data dalla domanda stessa. Allora, se mi fosse un professore dell'inglese, e ho da mostrare l'inglese, a dire che io non so neanche, che ne so, uno, due, niente, non so niente l'inglese. Se mi parlesse solo l'inglese, come faccio a trasmettere? Non capirebbe. Ecco. O so che vi siete, magari, siete già avvezzi alla lì. Però a Mariangela, per esempio, se mi prima faccio un preambolo in italiano e poi ti dico come l'inglese, forse per te è meglio, no? Ecco. O Luigi, niente, Luigi non sa se l'inglese, parlo, niente. Allora, non ho sbagliato. Allora, non ho sbagliato. Allora, io non parlo. Magari capiscono ma non parlo. Ma capiscono perché c'è la strada. Allora, poi dipende, perché per esempio, al liceo, al liceo, francese, all'entravo, la prima volta, francese. Buongiorno, a 6 e 1, tutti in pene. Allora, non ho mai uscito. Dipende da un metodo di sviluppamento. Allora, per l'altro, questo è più agevole. Nel 1923 è uscita una normativa del provveditore degli studi di Genova, per cui le insegnanti o gli insegnanti, i mestri, mestru e i mestre, doveva, se andavano a insegnare, magari un po' dall'introtterra, dovevano, gioco forza, sapere il Genovese, perché dunque non avrebbero trasmesso niente, perché l'ha parlato. Allora, dove parlo nel 1923, i miei colleghi, anche a San Giorgio, doveva parlare, dovevano già mestre. Alla è nata a San Carlo. San Carlo? San Carlo non l'è, non l'ha un caccio. San Carlo si fermò. E tante figure venivano dalle cacchine. Non so come è venuto un discorso, hanno parlato dei tre porcellini, la favola dei tre porcellini, no? E ne ha raggiunto che mi ha detto... Fatto la casa di legno, di pane, di legno... E gli dicevano... Mi dicevano, mi dicevano, mi dicevano, non parlo a me, quanto ti dicevano? Negli anni 90, non fanno sé, non due mila anni fa. Mi dicevano, non parlo a me, mi dicevano, la fantasia che l'avevano sviluppata bene. E mi dicevano alla cucina... Molto pratica. Tra l'altro, conoscete tutti, non la fanno di tre porcellini, la conoscete tutti. fa una casetta, quella di... O fa delle cime, quella di... Quella di... Quella di... Quella di... La palassina, con la torretta con la mitragliatura, eccetera. E poi... O caccia... O lui caccia... E poi se perde... E poi se perde, invece quella di là, vieni a casa. La favola non so se è nata prima la nostra o la loro. In genese, hanno letto di tre porcellini, gallinette. La stessa? La stessa? Tre gallinette. L'ho anche scritta in rima a me. Non ve l'ho detto, ma non c'è nessuno. No, che l'ho detto, non meglielo. L'approssimante volta ho porto e va a lesa. Qua non le ha letto? Tre gallinette. Allora, tre gallinette decidano, in una giampa, una russa, una negra, decidano di andare a fare la città. vanno i due grandi mesi al bosco, poi... Poi... Poi, su, va sotto, le ascute... Una delle strade si perdono. Poche parole. E allora cosa fanno? Da che un po' passò lui, lui sono fresco. E allora... Dicono, fanno una bella casetta, e fuggi, non? E prendiamo dretto. Tutti ci mettano, tutti e tre lì, tutti hanno una bella casetta. è quella negra che dice mi faccio un po' drenta a vedere come sei che sta, poi io gli dico a fai drento? E' un bambino che va a riuscire, sapetevelo. E allora quell'altro due esame, noi facciamo un'altra, però tutta volta facciamo dei bacchi, un derramme, un derramme, fanno una casetta, poi a russa gli dici mi avevo un po' drento a tutta storia, poi te e con la gianca, cagliace piccina tra l'altro messo in netta, come fa' se il campo arrivò lì, e passava da lì in due notti, che li ha in l'atulè, non? E' un caffetto, una casetta di ferro. Quello che ci servisse. Quello che servisse, con il maio, con tutto. E poi arrivo lì e succede quello che succede con i tre porcellini. ide, alla fine poi tutte e tre, dalle altre due si pentano, domandano scusa, eccetera. Quindi questa è una tipica favola foa zenese, appartenente alla tradizione zenese. Però non si sa se era prima questo o l'altro. Non lo so, non lo so, se sono nati prima i tre porcellini o se è nasciuto prima i tre galinetti. Comunque sapetevelo. 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 Allora, altre cose volanti? Fiamanghilla. Fiamanghilla è il piatto ovale. Perché si chiama fiamanghilla? E' da fiamminga, veniva da fiamminga. E' da fiamminga, avevano questi piatti. E veniva da là. Fiamminga, se c'è la fiamanghilla. Si, chissà poi ci verrà niente. Poi magari stava facendo uno, trova delle cose, casualmente. Mi gustavo due caporali del vino bianco, del proseguo. Caporali? Caporali? Penso che... Ah, va bene. I caporali sono i savoiardi. Però gli altri vediamo caporali. Caporali. Non so perché. Gli anicini. Gli anicini? the bassitet menellino, i biscotti, i biscotti zoolagassu? Eh no? Corripondono? Canestrelli? Canestrelli, o ruete. Anche ruete. Sì. Poi, pushing pain dose. ciccioli dupappa ciccioli dupappa ciccioli dupappa e quelli amaretti piccincosi Brut e buona! Brut e buona! Brut e buona! Ciccioli non fa partire da buona! Brut e buona! Ma poi stiamo sapendo di fare da buona! Questa cosa non è che non c'era poi! Invece quello che fava da Santina... Ti ricordi? Perché è da buona? No, no, no! Era un... Ah, vengo il cimento! Brut e buona! Brut e buona! No, no, no! Che ricordi? No, no, no! Che ricordi? E ho detto che potessi usare... Pane fainetta! Pane fainetta! No, no! Proprio quelli che... Faccia ciumetti? 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 Meringhe? No, era diversa! E va bene, ma è un ciumetto! Come fava le uovo? È un ciumetto! Ma non fava il tuo forno da stufa! Ci vuole un bianco dell'uovo... Sì, perché... Un bianco dell'uovo... 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 I valeti che andavano a porta... Ghan avvertano subito il cancello... E quando poi appossa in terra... Quelli pessimi brillantè... Un è ancora un destipore... E sta femmina chiale... Femmina è un termine... Tipico dei cacciatori... Femmina... Che per indicare... L'uccello femmina... Dijan femmina... I seri che hanno avverti... Femmina è una baraccaccia... Anche ora... Se tu al suo trono... Appena lo vede da distante... Lo fa scritto da carrega... Come un tappo di spumante... Per dieci anni... Maria Fani... Mamma mia che splendida creatura... Finalmente... Per questa sera... Mi piace una fregatura... Che è anche brutta... Che finora... Non so tu il figlio... Ma secondo me... Ti ne convenh... Anche se tutto è ben vestito... Le vengono solo... Di raden... Di raden... Di raden... Sta che cica... Le è speciali... E io qua vedo... La regina... Conferma... E cosa cosa ha detto... Le è proprio un bello fregogine... Te ragione... Che risponde... La regina... La regina... Ma uscidò... Era il principe... Ma uscidò... La via vista... O vago subito a cercà... A cercalo... Si perché... Meschino... Amaguno... E' arrivato... E' arrivato... O se... Si è rotta la biblioteca... Aviglio... E' disgusto... Ma ti l'hai viste... Fa una anguccia... O l'investe... Appena l'arga a porta... La ci bella... Si è papedi... Alla quella russa... Con la buca storta... Mia... Ti porto... Un e noi... Venere io una... Un po' fa... Che tu le puoi... O se ne intende... O la battezzata... Nacca... Vieni a vedere... La città... Alla vera squisitezza... Biunda... Elegantissima... D'un'incomparabile bellezza... Ma uscidò... Difidente... Ora mai deluso... E' scoraggiou... O segretà... Testa è lui... Che risponde... Ma padezza... Injumarco... Annesetta... Do letta... Ma non mi ha una brutta figlia... Ha un collo... Tanto stigio... Che si assomiglia... E la Giovanna... Non ti piace... Anche lei... È brava... Ma ti l'hai vista... Pedere... Ha un paneco... Qua un Bartì... Bartì... È una fontana... A Colombina... Ha una pelle... Che apparee... Corsellana... Un attacco... D'artrosi... Torminante... Niente affetto... Si abruccò... Perché... Ai suoi oggi... Conturbante... Si appresentò... Una sgarcelina... Che mai... La viaggio... Immaginò... A puoi servire... In questa terra... E così... Si subito... Innamorò... La facciamo... Lei è vicina... Con timorosa discrezione... Si a me concede... Questa danza... O che dice... Un po' di trema giù... Naturalmente... Lei l'accetta... E così... Comienza... Con questo ballo... Una maratoma del mazur... Che valsa... In tanghi... Senza intervallo... Diamo su Loulou... Ormai... In pista... A tenersi stretti... E a spagimare... E a sondere... A tenersi... C'è la mia amica... A riposare... Lo che propone... Il principino... A un certo punto... Preoccupò... Che tra l'altro... A dialetà... O se sentiva... Manca... O per me... Non è un problema... Cosa c'è la digerire? Non, non... Per me... Si ho fame... Ho detto... Poi... O fa un segno... Caporchestra... Che ferma... A musica... All'istante... E parlando agli invitanti... Vedo... Una cosa interessante... Ormai... E per concludere... Questa serrata... Ho scocato... Il nuovo giorno... Che siamo... Spaghettati... Per la precisione... Siamo... Trenette... Con Dio... Le cielo... Le mancano... Con questo... Fanno... Secondo... La tradizione... Fanno... Un uomo... A due... Per cercare... Quindi... Tutti... Mi raccomando... Vi aspetto... A tua... Per un gran finale... L'esuberanza... Do Gido... Lì capì... Lì... A provoca... Da quella figlia misteriosa... Che lì appena... Un pochino... Lì... 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 Sì, dice il lunato, proprio come una saetta. Alla via senza trovare bisogno di ripiare senza toilette. Ma mi lo viste, dice il lunato. Fa del corso al corrido e infiare in cacca rossa come si deve escondilu. Scondilu e nascondilu. Alla sera il spurtello all'estero, io senti la frusta ricicare. I cavalli sono partiti, ma per dove non si sa. Oshidò che mollei gambe, che vengono a partire. Oshidò che guarda la carrega e non sa ci cosa di. Tanta lei ha un momento prima in tutto il suo felicità, quante ora Dio ha la culà e le ha tristissima la realtà. Adesso per esempio, la favola la conosce. Alla, adesso, questo è il senso. Direggeva così bene. Mi sono in grado dell'eserlo. Ma no, ma sì. Oshidò che l'ho già adosinato a lui. L'ho già adosinato a lui, tanto per me sia possibile. Ma più che altro costruirla. E poi, ognuno... Si sa che tu hai detto il tuo conduttore, ma poi ti sei messo del tuo. Ma bisogna magari te l'eserlo. Che è una volta un gran signor, un brav'uomo a diavete, chi ti è fuori? Normalmente i ricchi non hanno l'umanità. Bisogna anche sapere l'eserlo. Con le pause giuste. Anche il cuore. Con le pause. Oh, c'era un regista. Vedi, ho qualcosa. Noi vogliono uscire. Però... Quanto siamo sette? Quanto siamo sette? Sì. Magari, non so, al completo quanto saremmo? Dieci. Vediamo di distribuire bene le parti. Un po' più. Prima un quattro, quante meno che sei a detto, poi che sei a due mimi. E bisogna fare anche i mimi. I mimi e fai a Luigi. Io ho riuscito tanto perché pensavo a due scene perché era troppo da ridere. Ora, quando ho detto bevano i massabecchi. I massabecchi cos'è? Gli italiani sono un mazzapicchio. Quelli che chiamano gli strani per mettere a posto le lastre del marciapè. La strada. Si, si. Il buono del marciapè. Si, si. C'era un battente. C'era la strada. Eh, non mi ricordo. Si. L'astra da strada. La marciapè. E per mettere a pombo. A mano. Ora invece ce l'hanno pneumatico. E tra l'altro con due fustini dell'Ixan. Ho fatto due massabecchi. Erano assolutamente. Qua le dico, è pe ma qui ma sa bene chi ha? Anna che dava il ma sa bene come era l'altro e gli altri per far capire solo ma sa bene. Tanto per dare l'idea delle come sa per fare. E tutti gli attrazi, gli oggetti vari, gli abbigliamento, gli abbiamo anche tutti, l'intera valigia sarà pronta. Passarvila viene fuori di tutto. Bracchetti? Eh si, bene. Che bello. Si poi ti cominci a resi ma poi ti chiede cadenza, giusto? Si va bene, è scritta anche. Sono tutte quartine dell'esigenza. Si, poi uno si esercita un po'. Poi, allora, quale è il baruda? Baruda è un termine tipico genovese per indicare uno, chi aprà il baruda è un po' sciaccavo. Però il baruda è una marionetta o burattino? La che differenza c'è tra marionetta e burattino? Allora, tu dici che la marionetta è quella con la mano, te invece? La marionetta è quella? Il burattino è quello perché, per non fare confusione, allora, il vestito, diciamo, che copre la mano, in francese ci dice buratt, da cui burattino. Ok. E l'altra è la marionetta, qui si. Oh, perché oggi la marionetta, scusa? Perché parlavi di quella baruda? Ah, il baruda, ecco. Baruda è una marionetta, un burattino, del teatro dei burattini. In effetti, non si dice il teatro delle marionette quando è in te strada, si dice il teatro dei burattini, che quelli, no? Che con una mano li fai con le due dita, pollice e migliore, sono le braccia e la testa, la fai muovere con le altre. E poi il polso, naturalmente. Baruda è il tipico marinaio, marinaio a terra, raffigurato con una barba senza baffi e il viso rubizzo, come da mesi litri, no? Ma non è tanto i mesi litri che gli rendono il viso russo, no? e le masche russe. Ma perché si incassa molto facilmente? In effetti, baruda deriva da baroud, la parola baroud araba, che vuol dire polvere di cannone. Quindi, è vero, baruda perché è polvere, perché vedeva fuoco molto facilmente e esplodeva. In effetti, questa rappresenta la sede dei burattini. Lui è quello che è da bacca a tutti, non lo scerpa. Non so, ma che si ha visto. Era sempre in compagnia di un certo pipìa, o baruda e o pipìa. Il suo compagno di sventura o di avventura, come preferite. Poi, io non mi ricordo delle vicende delle varie rappresentazioni. Comunque, u baruda e gli altri hanno scelto u baruda perché non è bello numero. E poi non esisteva ancora la compagnia teatrale di baruda. Dico, quando fanno i baruda? Allora, eravamo professionisti. E allora io pretendevo, perché anche andavamo, ci facevamo pagare, ma fior di soli ci facevamo pagare. Sì, infatti, allora, il massimo cashier abbiamo? Una pista del pano. Eh, forse, forse. Mamma mia, una pista d'acqua. Forse. Tournée. Tournée abbiamo fatto. Quella lì? Poi abbiamo fatto il mattino e abbiamo fatto la palletta. Poi non mi ricordo il mio carino. Ma come stanno così? Poi non mi ricordo gli altri. Cont potentially differxi, credite li vicende. Crec�le par ecco il maire. Ok, ora e poi. Crescille par ecco. No. Crescille par ecco,